Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò 10 trucchi utili per iPhone se volete una seconda parte a questo video dobbiamo raggiungere i 5000 like quindi iniziate a lasciare i vostri like qui sotto, non perdiamo altro tempo e iniziamo Partiamo con il primo trucco che è quello che ci consente di eliminare tutte le notifiche in un colpo solo quando noi abbiamo il centro notifiche piuttosto affollato di notifiche possiamo rimuoverle singolarmente o facendo così e poi elimina o premendo sulle X non molti di voi sanno invece che premendo con forza su una delle X, una qualsiasi esce questo menu su iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus e successivi che ci consente di eliminarle tutte in un solo modo Il secondo trucco di cui voglio parlare è relativo ad iMessage Quando siamo in iMessage possiamo utilizzare questo cuoricino per eseguire alcune azioni del tutto nuove sconosciute a molti, ossia ad esempio disegnare con il nostro dito e inviare il messaggio ad una persona oppure ancora potremo eseguire altre operazioni vedete se il simbolo del cuore non compare subito basta premere su questa freccetta e poi sul simbolo del cuore da qui ad esempio premendo con due dita possiamo inviare il nostro battito cardiaco alla persona un battito cardiaco ovviamente simulato toccando con due dita invece vedete bandiamo dei baci possiamo eseguire altre azioni o addirittura possiamo andare a disegnare in modo più completo o addirittura disegnare su una foto tutto questo si chiama digital touch e potete attivarlo appunto dall'icona del cuoricino in messaggi potrà sembrare banale per qualcuno ma sono sicuro che molti altri non sapranno della possibilità di rispondere rapidamente a una notifica perché noi le vediamo qui e cosa facciamo non possiamo fare niente possiamo eliminarle basta ma se premiamo con forza su iphone dotati del 3d touch o se scorriamo verso il basso su iphone senza il 3d touch come vedete possiamo rispondere a messaggi ad altro genere di notifiche senza lasciare quello che stiamo facendo quindi se ad esempio siamo in un'app qualsiasi come impostazioni io posso andare a premere con forza su questo messaggio e rispondere direttamente da quell'app senza stare ad aprire e chiudere ogni volta l'applicazione in cui mi trovavo un altro trucco poco noto sta nella possibilità di cambiare intensità al flash quando noi accendiamo il flash ovviamente questo ci consente di utilizzare il dispositivo come una torcia ma possiamo andare anche a modificare l'intensità di questo flash su iphone 6s 6s plus 7 e 7 plus nonché modelli che arriveranno dopo di questi come andando a premere con decisione sull'icona del flash vedete abbiamo luminosità bassa intermedia o intensa andando a modificare questo aspetto cambierà l'intensità della luce flash generata dal nostro dispositivo è un qualcosa di molto comodo quando magari il flash attivato in modo standard ci sembra o troppo elevato o poco elevato questo è poi un trucco che sono sicuro conoscono pochissime persone ma è molto comodo per gestire al meglio le nostre email ad esempio quando riceviamo tante mail da una persona ma anche da tante altre persone queste vanno a confondersi e quindi non riusciamo più a trovare ciò che ci interessa leggere ciò che magari invece non ci interessa leggere invece con questa funzionalità di iOS noi possiamo attivare un determinato contatto come VIP in questo modo questa mail ad esempio di Amazon ma tutte le altre finiranno in questa cartella VIP che sarà sempre aggiornata solo con le mail che vogliamo sempre leggere e per queste mail riceveremo sempre una notifica un qualcosa di molto molto comodo per gestire al meglio la inbox un altro trucco interessante sta nella possibilità premendo su questa icona a forma di app store di utilizzare tantissime estensioni per i message inclusi i giochi questi ad esempio sono giochi biliardo battaglia navale anagrammi tutto fatto con un'altra persona un gioco a turni ma poi ci sono anche stickers come questi ci sono possibilità infinite veramente perché c'è proprio un vero e proprio app store dedicato alle estensioni di i message potete installare veramente quello che preferite c'è davvero tanto dalle banalissime gif animate ad esempio che potete trovarle rapidamente con questo programma e andare ad inviarle ai vostri amici fino appunto a traduzioni simultanee direttamente in i message senza andare a cercare in safari o in altre applicazioni il tutto che va insomma a migliorare la qualità generale di i message appunto tutto ciò si applica solo ad i message non ai messaggi di testo standard un trucco semplice invece sono sicuro che questo lo conoscete alcuni di voi lo conoscono ma altri sicuramente no riguarda sempre il 3d touch quindi iphone 6s 6s plus 7s plus possono eseguirlo per accedere rapidamente all'applicazione impostazioni senza questo trucco voi in sostanza non lo potete fare dovete aprirla andare ad esempio nel menu cellulare e poi nelle singole sezioni ma se avete il 3d touch potete premere con forza sull'icona di impostazioni e scegliere poi il menu in cui volete andare quindi ad esempio volete andare in batteria per attivare la modalità di risparmio ci andate molto più rapidamente rispetto al percorso standard che consentirebbe nell'aprire impostazioni nell'andare qui giù batteria e poi appunto attivare questa modalità lo stesso può farsi anche ad esempio per la rete wifi un qualcosa di molto molto comodo che vi consiglio di utilizzare su iphone 6s e successivi tantissime volte ci troviamo a messaggiare con persone diverse in iMessage delle volte sono persone che conosciamo amici familiari delle volte magari qualcuno con cui non abbiamo un grande rapporto o semplicemente qualcuno a cui non vogliamo inviare la classica ricevuta di lettura il letto qua sotto quando appunto leggiamo un suo messaggio e da poco è possibile farlo grazie ad iOS 10 infatti possiamo andare nelle impostazioni e scegliere di attivare invia ricevuta di lettura o meno se io lo disattivo da questo momento in poi questo contatto non mi potrà più vedere in sostanza quando ho letto un messaggio che mi ha inviato ma io potrò ignorarlo senza farmene un grosso problema lo stesso discorso vale per non disturbare adesso possiamo attivarlo solo per specifiche chat quindi non ci verranno restituite notifiche per quella chat in particolare ma per tutte le altre sì in mail c'è un altro trucco molto comodo che vi farà veramente risparmiare tanto tempo vi semplificherà la vita che è una novità di iOS 10 ossia la possibilità di annullare l'iscrizione alle mailing list senza stare a cercare improbabili link che di solito le aziende mettono qua sotto piccolissimi se andiamo a cercarlo veramente sarà in qualche posto eccolo qui annullare l'iscrizione qui in basso invece sarebbe molto più comodo avere un unico pulsante sempre nello stesso posto per annullare l'iscrizione alla mailing list e guardate un po' cosa c'è qua sopra c'è esattamente questo pulsante io ora lo premo e l'applicazione mail dopo una conferma farà tutto da sola invierà una mail farà in pratica quello che doveva fare la pressione del tasto lì in basso e in automatico da questo momento in poi non riceverò più queste fastidiose newsletter da chi mi disturba l'ultimo trucco di cui vi parlo in questo video riguarda Siri Siri che adesso può completare richieste non solo nelle app di sistema di Apple ma anche in quelle terze come Facebook, Telegram, Whatsapp tutto ciò però va attivato a mano dall'utente un qualcosa che non tutti sanno che bisogna fare molti si aspettano che semplicemente installando Whatsapp su iOS 10 questa funzioni già con Siri ma non è così bisogna attivare questa funzionalità andando in impostazioni Siri supporto app e poi attivando queste voci verdi che di solito quando installate le app sono sempre spente dovete assicurarvi quindi di attivarle tutte quando saranno attive per l'app che vi interessa potrete ad esempio dire invia un messaggio a Francesco Siciliani su Whatsapp questa è una prova per un video avete visto? semplicissimo però è necessario attivare le applicazioni da questo menu moltissimi non sanno di questo passaggio e quindi non vanno ad utilizzare Siri con le app di terze parti bene ragazzi spero vi sia piaciuto questo video con 10 trucchi per iPhone ripeto se vi piace questo format se volete una seconda parte del video lasciate 5000 like qua sotto in modo da sbloccare la seconda parte di questo video ciao a tutti ciao a tutti